Irina Shaikh senza velli su Instagram Mamma da quattro mesi appena eppure perfetta. Ha tempo di record. . E una Irina Shaikh da applausi quella comparsa su Instagram nelle ultime ore. La 31enne modella ha deciso di celebrare la World Breast Feeding Week con un topless in bianco e nero, immortalato dal fotografo Mario Sorrenti. . Seducente sul divano, Irina gli occhi chiusi, le gambe infinite e un seno scoperto. La Shaikh è diventata per la prima volta mamma il 21 marzo scorso, quando ha dato alla luce Ilea De Semine. . A lungo fidanzata con Cristiano Ronaldo, la modella è ormai da un paio d'anni compagna ufficiale di Bradley Cooper. . Già tre settimane fa, con un selfie in lingerie, la Shaikh aveva mostrato al mondo il recupero fisico a tempo di record a quattro mesi dal parto. Immancabile, e quasi doveroso, lo step successivo. .